Inserire tra i livelli essenziali di assistenza le prestazioni sanitarie destinate alla fibromialgia, una malattia reumatica cronica che può comparire a qualsiasi età e che colpisce in Italia circa 2 milioni di persone e in Basilicata circa 10.000. A sollecitare l'attenzione del Governo regionale su questa problematica con una mozione sottoscritta anche dai consiglieri Zullino e Baldassarre, il consigliere regionale della Lega Giovanni Viziello che ai nostri microfoni ci spiega la finalità. La finalità è quella di veder riconosciuta una patologia che ha per gli aspetti clinici dei connotati difficilmente oggettivabili e che quindi a fronte di una soggettività sintomatologica importante non riesce ancora ad essere riconosciuta in tutta la sua gravità. Pertanto l'obiettivo è quello di dare un connotato nosologico preciso a questa patologia e inserirla nell'EA. Ancora lo Stato non ha provveduto. Cerchiamo di sollecitare, come hanno fatto altre regioni, la regione Basilicata a delineare l'EA anche per questa patologia. Questo significa ovviamente l'opportunità di poter evitare che questi pazienti che necessitano di numerosi esami vadano incontro anche all'onere della spesa che questi esami comportano.